Signore, eccoci in nuovo qua. Questa sera affronteremo un argomento di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, ma è che è sempre di grandissima e particolare attualità, ovvero sia la tutela del patrimonio. È un argomento attualissimo, stante anche l'attuale situazione economica che è di particolare, ahimè, come conosciamo tutti, miseria, mi sia consentito questo termine veramente di miseria, aumentano le tasse, aumentano i costi, aumentano le spese, aumentano le insolvenze, aumentano gli assoluti, aumentano coloro che non pagano. Tutti quindi vorrebbero tutelare il loro patrimonio. Ma che cosa significa tutelare il patrimonio? È qua che noi dobbiamo concentrarci per fare un discorso che non sia un discorso da bar, ma che sia un discorso che abbia delle fondamenta giuridiche effettivamente e concretamente valide. Innanzitutto la premessa è che non bisognerebbe mai fare debiti. Chiaro che i debiti poi purtroppo si fanno, ci sono debiti imprevisti e debiti invece come il mutuo, che sono regolarmente previsti e come tali sono anche regolarmente pagati. Se si fanno i debiti, i debiti andrebbero pagati. Chiaro che nella vita delle persone possono accadere degli imprevisti, completamente un incidente stradale, una grave malattia, una disoccupazione improvvisa, un lutto, un qualunque cosa che ci possa fare distruggere l'autonomia economica e patrimoniale che uno si è recato con il sudore, con la fatica e durante gli anni. Cosa succede in questi casi? In questi casi cosa succede? Succede che tutto il patrimonio del debitore deve essere tenuto a completa salvaguardia delle ragioni del creditore. Ed è anche giusto che sia così, perché diversamente il creditore non potrebbe mai incassare le sue demenze e il suo avere e si bloccherebbe e si frenerebbe l'intera economia. Ma premesso questo, che sono le cose fondamentali, non fare debiti. Se li si fanno bisogna pagarli. Quindi, quando ci sono, si risponde con il proprio patrimonio, che può essere con uno stipendio, chiaramente uno può avere che lo stipendio è pignorato, la pensione, sì neanche. L'imprenditore, il cittadino, la persona accorta che cosa fa? Nel cercare di vivere e lavorare sempre correttamente e non fare mai debiti. In epoca di gran lunga antecedente all'ipotetico e mai allo spiccato fenomeno debitorio, si mette e si pone in maniera tale da non avere assolutamente nulla. Ma questo non può succedere nel momento in cui il debito sorge, perché purtroppo riceviamo moltissime richieste da clienti, la cui stragrande maggioranza sono richieste fatte nell'immediatezza del debito. Si presentano presso i nostri studi dicendo voglio tutelare il mio patrimonio, ho una cartella esattoriale notificata, ho un protesto in arrivo, ho un decreto ingiuntivo che mi è già stato notificato, ho una causa in essere e probabilmente perderò la causa, ho già una vita giudiziaria intentata, addirittura c'è già una sentenza, mi hanno notificato un decreto ingiuntivo. È chiaro che in circostanze del genere la tutela del patrimonio è una pia illusione, non può succedere, chiunque dica al contrario dimentica l'articolo 2901 del codice civile ovvero sia l'azione revocatoria, perché qualunque atto posto in essere in maniera fraudolenta per privare il creditore delle proprie garanzie può essere giusto appunto nel senso dell'articolo 2901 del codice civile revocato. Vero è che la revoca vale solo per colui che ha azionato l'atto e non per gli altri creditori che non hanno azionato l'atto, ma è anche vero che questo rende caducabile anche in maniera molto facile l'intero impianto che uno si volesse creare di tutela patrimoniale nell'immediatezza del debito. Purtroppo in Italia vige molto questo concetto, non fare mai le cose per tempo e pretendere di avere una soluzione immediata e soprattutto assolutamente intangibile per la tutela del proprio patrimonio a cose fatte, quando l'evento debitorio si è già verificato ed è conclamato. Non è possibile, bisogna ragionare in maniera paradigmalmente opposta, come si fa all'estero quando all'estero un imprenditore inizia un'attività imprenditoriale, sono le camere di commercio stesse che insegnano all'imprenditore a fare una netta distinzione tra i beni destinati a essere messi a garanzia delle banche, dei creditori, di tutti coloro che si troveranno ad avere rapporti da fare con l'imprenditore e che quindi servono a rendere più soldi il patrimonio dell'imprenditore e a farlo lavorare di più, perché riesce a ottenere prestiti bancari, riesce a ottenere affidabilità maggiore e quant'altro, e i beni invece che devono rimanere assolutamente destinati alla propria famiglia, ai propri figli, ai propri eredi, a chiunque una voglia, considerando che sono beni che non devono essere messi a repentaglio, ma questa distinzione va fatta subito, nel momento stesso in cui sorge l'impresa, non quando i debiti si sono già conclamati. Tutelare il proprio patrimonio è particolarmente difficile e soprattutto è particolarmente complesso dal punto di vista giuridico, perché è tolto gli strumenti patrimoniali, di tutela patrimoniale, dei quali comunemente si parla il fondo patrimoniale, ad esempio, è stato smontato in maniera pressoché totale dalla giurisprudenza, basta leggersi le sentenze di Cassazione. Si parla molto di trust, ma il trust serve veramente a tutelare il patrimonio? Chi vi parla vi dice di no, perché il trust è un vincolo giuridico su un determinato patrimonio di destinazione ad uno scopo ben preciso, ma perché sia validamente compreso dal sistema giudiziario civilistico italiano, il trust deve essere legittimo, ovvero sia deve tutelare un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento giuridico, quindi io posso fare tranquillamente il trust per tutelare mio figlio gravemente handicappato, finché vivrà, posso fare un trust per tutelare un anziano che non sia più autosufficiente, posso fare un trust perché tutti i beni del trust servono a mantenere i figli all'università, la più prostaggiosa del mondo, ma non posso fare un trust autodichiarato in cui io sono sia trustì che beneficiario per pretendere che questo abbia una valentità giuridica opponibile ai terzi, infatti la giurisprudenza li cassa tutti rovidosamente, fatti in quel modo lì non servono, il trust serve per quello per cui è nato, ovvero sia per tutelare, è chiaro un patrimonio separato da quello del proprietario con un vincolo di destinazione per tutelare delle ragioni giuridiche di una persona che abbia degli effettivi bisogni, non di certo per tutelare un patrimonio. Ecco che allora ci sono molti altri scenari, la fondazione ad esempio è uno strumento di tutela patrimoniale che può essere validamente e positivamente effettuato, tenendo presente che il patrimonio della fondazione però diventa tutt'altro da quello del fondatore e il fondatore ne perde concretamente e realmente la proprietà. E questo è un grande scoglio che quasi tutti quelli che desiderano tutelare un patrimonio e che non sono abituati a ragionare in maniera giuridicamente sofisticata o corretta temono, ovvero sia il non vedere più il loro nome nel patrimonio immobiliare che hanno iscritto all'agenzia del territorio. Ed altronde se il nome è iscritto all'agenzia del territorio io posso mettere tutti i vincoli del mondo che hanno comunque la durata un termine, ma il bene è sempre mio. È chiaro che un creditore me lo potrà prendere, su questo non c'è nessun tipo di dubbio. Bisogna quindi affidarsi a professionisti e a strumenti giuridici che siano in grado di fare in modo che questo bene non sia effettivamente più nella proprietà e nella disponibilità concreta di colui che vuole tutelare il suo patrimonio e che entri nella disponibilità di terze persone, coloro che devono essere beneficate e aiutate o comunque quelle a cui si vuole lasciare, solitamente sono i familiari, i figli, è la cosa più importante che abbiamo. Per far questo ci possono essere moltissimi strumenti di tutela patrimoniale adeguati, sono molto sospisticati, sono molto complessi, vanno compresi dalla società estera al conferimento societario, potrei parlarne a lungo, ma sono cose che vanno attagliate a ogni singolo caso, perché ognuno ha una sua esigenza specifica e a questa esigenza specifica se deve rispondere con un rimedio altrettanto specifico, perché colui che deve tutelare le azioni di un'azienda, ad esempio un bene immateriale, non è come colui che debba tutelare un'abitazione, anziché un terreno agricolo o un'azienda agricola, perché cambiano poi molto anche dal punto di vista fiscale i passaggi di proprietà e quant'altro. Diverso al caso uno che voglia costituire una fondazione in comunità europea, oppure che la voglia costituire in una giurisdizione offshore, così come si può costituire una società di scopo holding che detenga tutte le partecipazioni azionarie o tutti i compendi immobiliari di una persona e cambia moltissimo sia come efficacia della tutela, sia come costi, sia dal punto di vista fiscale, se non lo può fare in comunità europea o extra comunità europea, quindi ogni caso va valutato appropriatamente, ma quello che importa capire e conoscere è uno, cercare di svincolarsi sin da subito, essendo a tempi infinitamente anteriori a quelli di un potenziale di sorgere di un debito, il proprio patrimonio. Due, ricordarsi sempre che lo spossessamento deve essere reale e non fittizio, non vanno usati mezzi fraudolenti, non vanno usati accordi simulatori, non vanno, una cosa che io sconsiglio fortissimamente, usati mai fiduciari, persone fisiche, l'amico, il cognato, il fratello, perché al di là del fatto che il fiduciario è una persona fisica, in realtà è facile abbastanza scoprire che copre una determinata persona, ma che cosa succede? Qualora, anche se questo si comportasse benissimo e fosse intangibile nei suoi comportamenti, se questo premuore, pensiamo che gli eredi dicano il patrimonio, non si, ci rendiamo conto che avevi fatto un altro simulato ed è di te proprietario che gli avevi dato, o non pensiamo invece che questo patrimonio venga rivendicato dagli eredi di colui che prima faceva il fiduciario amichevole, diciamo così. Esistono società fiduciaria, ma sono tutta altra cosa da fiduciario a persona fisica trovata nella porta accanto. Alla società fiduciaria ci si può sicuramente rivolgere con grande fiducia e confidenza purché rispetti determinati requisiti e purché sia in regola con la legge e purché sia una società fiduciaria seria e soprattutto che risponde di quello che fa con le assicurazioni relative e quant'altro. Quindi evitiamo affari da te in questa materia qua, evitiamo i consigli dell'amico al bar, rivolgiamoci solo a professionisti che sanno quello che fanno e sono in grado di tutelare adeguatamente il proprio patrimonio. E per concludere, insisto sempre sulla assoluta anteriorità dello strumento di tutela patrimoniale che si andrà a scegliere rispetto all'evento. Sarebbe come se uno si facesse un'assicurazione e pretendesse di incassare il relativo premio dopo che si è rotto fermo e si fa l'assicurazione di fortuni dopo. Evidentemente l'assicuratore non lo pagherà e forse lo denuncerà anche per truffa. Quindi le cose vanno fatte bene e in maniera giudicamente corretta. E soprattutto il fattore tempo è essenziale, perché se io parto con il capannone industriale messo tranquillamente a disposizione dei creditori perché così la banca mi concede il credito bancario e ci metto l'ipoteca sopra, quello so che lo potrò perdere, d'altronde l'imprenditoria è un'attività a rischio. Posso perderlo, posso non perdere, però mi metto già nell'ottica di dire questo e mi divento un bene strumentale all'utilizzo della mia attività, la mia attività può anche andare male e per ripagare i creditori ho messo a repentaglio questo bene che vale quello che vale, dalle mille lire al miliardo di euro, per fare un esempio paradossale. Però tutto il resto che mi costruisco nella vita con i conti correnti personali dove metto i miei utili, dopo che hanno pagato le imposte chiaramente, le mie case personali, la mia casa d'abitazione, la seconda abitazione, tutto quello che non voglio che venga messo a repentaglio nella mia vita devo tutelarmelo in maniera adeguata e questa tutela deve essere fatta nell'immediatezza, non mi ripeto quando è accaduto l'evento, ahimè, inspiegato, sicuramente non voluto. Ragionato così e ragionando in questa maniera qua e utilizzando gli strumenti di tutela patrimoniale assolutamente corretti secondo le leggi dell'Italia, dal punto di vista che la proprietà immobiliare solitamente si trova in Italia e della giurisdizione estera nella quale si decide di creare l'adeguato strumento di tutela si possono ottenere effettivamente dei risultati eccellenti per cui si potrà garantire un futuro eco dignitoso alle future generazioni, quelle ovviamente che vogliamo salvaguardare o comunque si potrà tenere intatto il bene e il patrimonio. Sono strumenti sofisticati, molto difficili da comprendere, anche molto costosi, ma servono effettivamente allo scopo a cui sono destinati, tutelare un patrimonio e renderlo intangibile da futuri accadimenti che si spera non devono mai avvenire ma qualora avvengano è bene farsi trovare preparati. Per approfondimenti e per specifiche richieste di tutela patrimoniale chiaramente ho fatto un discorso a parte per ogni strumento che, mi ripeto, varia enormemente a seconda del tipo di tutela di cui una persona ha bisogno o pensa di avere bisogno, ma il pensa di avere bisogno non va bene. È il bisogno effettivo e reale, quello lo può valutare solo il professionista, l'avvocato, il professionista, il mio studio sicuramente, ma non solo il mio studio, ci sono ottimi studi che trattano queste cose qua in giro per il mondo e anche in Italia. Quindi rivolgersi solo a dei professionisti e evitare soprattutto in maniera assolutamente come un delitto il fai d'arte giuridico. Vi porta solo a dei grossi problemi. Alla prossima e saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.